Buongiorno, come tutti sappiamo il contratto collettivo nazionale di lavoro rappresenta la fonte normativa con la quale le organizzazioni rappresentative dei lavoratori e le associazioni dei datori di lavoro concordano le regole che disciplinano il rapporto di lavoro. Nel settore dei pubblici esercizi, l'8 febbraio 2018 FIPE, aderenti a Confcommercio, ha sottoscritto con Filcams CGL, Fisaskat CISL e Wiltux, il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti d'aziende del settore pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo, creando così un contratto collettivo specifico per il settore e differenziandosi dal contratto collettivo per i dipendenti dalle aziende del settore turismo, sottoscritto da FIPE con le altre associazioni del comparto, da ultimo nell'anno 2010. Il nuovo contratto dei pubblici esercizi è certamente il contratto leader di settore in quanto riguarda circa 750.000 lavoratori e 250.000 imprese. Nell'ambito delle azioni promosse dalla Federazione Italiana Pubblici Esercizi per la promozione e la diffusione del contratto collettivo, oggi ci proponiamo di fare il punto sui corretti codici da utilizzare all'interno degli adempimenti obbligatori, quali Uniemens e Unilav, per identificare correttamente il contratto collettivo dei pubblici esercizi. Per quanto riguarda il flusso Uniemens, negli anni vi è stata un'evoluzione dei codici da utilizzare. Sin dall'introduzione del flusso Uniemens, nell'anno 2005, il contratto di riferimento per il settore dei pubblici esercizi, al tempo individuabile nel contratto del turismo, era individuato con il codice 167. Tale codice è rimasto valido, di fatto, anche con l'introduzione del flusso Uniemens, avvenuta nel corso del 2009 e fino al mese di maggio 2018. La sottoscrizione da parte di FIPE e delle organizzazioni sindacali del contratto collettivo per i dipendenti da aziende del settore pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo, avvenuta, come abbiamo detto, nel febbraio del 2018, ha fatto sì che l'Inps introducesse un nuovo codice. Con il messaggio 2310 dell'8 giugno 2018, l'Inps ha introdotto infatti il nuovo codice 483, valevole dalle competenze del mese di giugno 2018. Con il decreto legge 76 del 2020, in ottica di semplificazione, il legislatore ha istituito il codice alfanumerico unico dei contratti collettivi nazionali di lavoro. Tale codice, attribuito dal CNEL, ed è per questo che nella prassi si parla dei codici CNEL, deve essere utilizzato nelle comunicazioni obbligatorie al Ministero del Lavoro, i modelli Unilav, e nelle denunce retributive mensili all'Inps, il flusso Uniemens, per identificare il CCNL applicato al lavoratore. L'Inps, dopo un primo messaggio pubblicato ad ottobre del 2020, nel quale sollecitava i datori di lavoro a porre attenzione nella compilazione del campo del flusso Uniemens, solamente con la circolare 170 del 2021, ha ufficializzato il passaggio ai nuovi codici contratto da utilizzare nel flusso Uniemens. Nel particolare, a decorrere dal flusso di competenza a dicembre 2021 in via sperimentale e, in definitiva, dal flusso di competenza a febbraio 2022, i datori di lavoro sono tenuti ad utilizzare i nuovi codici contratto stabiliti dal CNEL. Nel particolare, per le aziende che applicano il CCNL e per i dipendenti da aziende del settore dei pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo, dell'8 febbraio 2018, il codice alfanumerico attualmente in vigore è H05Y. Pertanto, nelle impostazioni delle procedure paga utilizzate per l'elaborazione dei cedolini e dei flusci contributivi mensili, dovrà essere posta particolare attenzione nella selezione del corretto codice contratto, selezionando il codice H05Y per individuare il contratto collettivo dei pubblici esercizi. Per quanto riguarda le comunicazioni di instaurazione del rapporto di lavoro, i cosiddetti UNILAV, il Ministero del Lavoro non è stato altrettanto solerte nell'adeguarsi al decreto legge 76 2020, ma da inizio 2020 sono stati comunque introdotti nuovi codici contratto diversi dai codici CNEL. Fino al 15 gennaio 2020, nei modelli facenti capo al sistema delle comunicazioni obbligatorie, erano adottati i codici contratto previsti per il flusso Uniemens, ma senza i più recenti aggiornamenti. Nel campo contratto collettivo applicato dei modelli delle comunicazioni obbligatorie, pertanto, doveva essere indicato il codice 167 identificativo del CCNL del turismo. Con l'aggiornamento del 15 gennaio 2020, il Ministero del Lavoro ha rivisto completamente la classificazione dei contratti collettivi nazionali, introducendo un codice numerico di quattro cifre e prevedendo il nuovo codice 7340 per il CCNL dei pubblici esercizi. Dal 15 gennaio 2020, pertanto, per le assunzioni effettuate nel settore dei pubblici esercizi, il campo contratto collettivo applicato dei modelli delle comunicazioni obbligatorie deve essere compilato con il codice 7340. Tale codice resterà in vigore fin tanto che il Ministero del Lavoro non recepirà le previsioni del Decreto Legge numero 76 del 2020, adottando i codici contratto stabiliti dal CNEL. Solamente in quel momento, anche all'interno dei modelli Unilav, il contratto collettivo dei pubblici esercizi, sottoscritto da FIPE, sarà individuato con il codice H05Y. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi invito a seguire le prossime iniziative della Federazione Italiana Pubblici Esercizi. Arrivederci!